buongiorno buongiorno oggi è domenica oggi è domenica è una bellissima giornata a parte la nottolata della Gabriella che non mi ha lasciato a dormire eravamo così felici allora intanto l'altro giorno abbiamo preso il pane finalmente abbiamo trovato il pane per la colazione prendiamo sti panini tipo quei hamburger americani vuoti con i semini sopra perché qua panno toff non c'era il giorno dopo facciamo colazione marmellata aprimo in due il panin pesce ed erano ripieni ha mangiato il pane il pane ha appruzzato io uno me lo so mangiato faceva schifo sembrava tipo salsa del pesce affumicato però era buono non stava bene con la marmellata e invece ieri abbiamo trovato finalmente abbiamo trovato il panda toast anche pagato caro questi due euro due euro un pacco da noi costa niente bombo contenti stanotte alle 5 di mattina sentimo rumor ah sì perché in questi giorni avevamo una rana a trovarci un rospo cos'è? un rospo cos'è? boh ieri l'abbiamo fatto trasloccare abbiamo detto basta se non paghi l'affitto fuori dalle balle e stanotte sentivo un rumor che cazzo sei tornando alla rana accendo la luce che non c'è la luce e il telefono accendo la luce del telefono e c'era c'era un topo così non si stava mangiando il pane bastardo e questo alle 5 alle 5 mattina butta via il pan caccia via il topo eh vabbè e non compriamo più pane non compriamo più mamma mullata non compriamo più niente però ci siamo accorti del del perché tutti quanti i nostri vicini la sera mettono fuori tutti i sacchetti col mangiare appesi fuori questo abbiamo capito perché sono stupidi cavoli si vede il mare oggi è bellissimo praticamente qua stiamo tre settimane e dopo ci sposteremo ciumpong ciumpong che è dall'altra parte che sicuramente non sarà bello come fa bellissimo aspetta che vi faccio vedere i bungalow quello con le coperte fuori è il nostro come quello dei zingari no ho messo ad arieggiare non è come quello dei zingari abbiamo la macca tutti quanti da la macca siamo fuori tutti i sacchetti praticamente siamo a 20 metri dal pane bene domani prendiamo il motorino domani prenderemo il motorino andiamo nell'altra spiaggia andiamo a fare qualche domani cos'è? tanto abbiamo tre settimane guarda quanto sei già andando via? una una è scarsa bene bene ieri sera cosa abbiamo mangiato? mai più ieri abbiamo mangiato una buonissima roba no io ho la solita minestra al curry con le verdure e pollo e la tipa fa spicy e io non le ho detto stavolta little le faccio medium ah fa medium, medium perfetto la Gabriella prende pollo al curry con le verdure e anche lei ha detto medium non era medium e stamattina ne hai risentito andando al bagno no no in modo pulito tutti gli altri giorni è benissimo bene bene ci vediamo più vecchi me sei scemo ciao Gabriella ciao non saluta mai ciao